E' una bella giornata di sole ad Hamburgo, dove accadono storie pazzesche. A numero 19 della Konigstrass, nel cuore della vecchia Hamburgo, viveva il professor Otto. Axel, Axel, c'è una grossa novità! Vieni! Zio, cosa è successo? Arrivo, arrivo! Axel, ho trovato una vecchia mappa runica. Guarda cosa c'è scritto. Zio, che cosa vuol dire? Non ho capito, ma troverò la traduzione di questo quesito. Ehi zio, sono riuscito a decifrarlo. Discenti nel cratere nello Jokul dello Sneffels, che l'ombra dello Scartaris lambisce alle calende di luglio. Audace viaggiatore. E arriverai al centro della terra. Cosa che io stesso ho fatto. Firmato Arne Sacknusser. Bravo Axel, tra qualche giorno partiamo per l'Islanda. Oh no! Adesso questo mi porta in Islanda. Il giorno dopo prepararono l'attrezzatura e partirono. Il viaggio fu lungo. L'avventura è appena iniziata. Vi consigliamo di andare a leggere il libro e viaggia al centro della terra.